Rintracciato e arrestato in Albania un 55enne di quel paese, latitante da oltre 7 anni, grazie all'attività dell'ufficio SDI della Procura Generale di Perugia, del quale fa parte la Polizia Penitenziaria. Deve scontare una condanna a 25 anni, 7 mesi e 21 giorni di reclusione, frutto di 4 condanne per vari reati, tra cui Associazione per Delinquere finalizzata al traffico di droga, commesso in varie regioni del centro Italia. L'arresto è avvenuto il 5 ottobre scorso da parte della Polizia Albanese, che ha eseguito un ordine di carcerazione della Procura Generale di Perugia guidata da Sergio Sottani. L'individuazione del latitante, che si avvaleva di ben 7 alias, è stata resa possibile grazie all'attività dello stesso ufficio, che ha eseguito numerose e complesse ricerche mirate al rintracciamento. Gli inquirenti hanno concentrato l'attenzione sulla sorella, che si trova in Italia, e sulla moglie e sul figlio del latitante, che risiedono in territorio straniero. Le informazioni hanno consentito alla Polizia Albanese attraverso l'Interpol di bloccare il latitante, che era uso spostarsi in Europa con impiego di falsa identità. L'arrestato, fermato il 5 ottobre a Durazzo, è in attesa di estradizione verso l'Italia.